Siamo alla quarta edizione di questo villaggio di Natale e abbiamo appena avuto modo di conoscere questo splendido panettone con la cipolla Intanto ringrazio il sindaco Giovanni Macri per averci ospitato in questo palcoscenico in cui si accendono i riflettori a Tropea si illumina di pace questo è il messaggio che anche il consorcio vuole dare attraverso questo straordinario prodotto dolciario realizzato dalla grande maestria del maestro Mastroianni è un panettone che racconta il territorio attraverso la cipolla e l'olio extravergine d'oliva biologico monocultivar otrobatico del Bibonese quindi è un panettone veramente a chilometro zero che racconta un territorio unico ma soprattutto una location straordinaria come Tropea Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!